La Villa Medice Ambrogiana di Montelupo e quella di Careggi sono al centro del progetto Uffizi Diffusi, finalizzato a collocare anche al di fuori delle gallerie fiorentine le opere che attualmente sono custodite per problemi di spazio nei depositi. Nelle immagini vedete il sopralluogo effettuato dal presidente della regione Eugenio Gian e dal direttore degli Uffizi Eich Schmidt nella Villa Ambrogiana. Per molti anni sede di un ospedale psichiatrico giudiziario e oggi destinata a un brillante futuro museale insieme a molti altri luoghi storici toscani. L'idea di creare gli Uffizi Diffusi è in realtà molto antica. L'idea non è nostra, è di Cosimo I e di Anna Maria Luisa dei Medici, quindi del primo Granduca Medicio e dell'ultima dei Medici. E quindi questa è la vocazione e poi del resto è completamente irresponsabile di avere migliaia e migliaia di opere d'arte nei depositi che nessuno può mai vedere. Mentre qui ci sono i luoghi anche originali come appunto l'Ambrogiana dove centinaia di opere che abbiamo nei depositi erano allestiti nel 600 fino al primo 700. Quando queste opere che oggi sono nei depositi potranno essere all'Ambrogiana, alla Villa di Careggi, alle Terme del Corallo, a Montecatini, alle Celse, ora a Samminiato, al Palazzo Grifoni, a Poppi, a Pescia. E parlo di alcune delle località perché poi ovunque si sta creando questa attenzione che porta a fare delle proposte davvero interessanti. Ma di tutte queste proposte quella dell'Ambrogiana è veramente un perno e l'incontro di oggi è un incontro che rappresenta una tappa molto importante verso la creazione di quel protocollo d'intesa che concretizzi e materializzi quest'idea per cui E.K. Smith passerà alla storia.